Lo sport e il calcio dominano la scena dei miliardari secondo la recente classifica di Forbes. Il mondo dello sport è un affare da miliardi per gli uomini più ricchi del pianeta. Ma non è solo un affare internazionale. L'Italia fa la sua comparsa con nomi di spicco. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Dai magnati del basket ai titanici del calcio, la lista di Forbes è un catalogo di ricchezza e potere nel mondo dello sport. Il più ricco tra i miliardari che hanno investito nell'universo calcistico è Carlos Slim, il magnate messicano, comanda il gruppo Carso e possiede il Real Oviedo, 93 miliardi di dollari, diciottesimo uomo più ricco al mondo. Tra le figure più note del mondo del calcio in Italia e che attualmente non sono più presenti nel business, c'è il fondatore di Elliot, Paul Singer, 6,1 miliardi di dollari, al 470 posto mondiale, e l'ex patron dell'Inter Massimo Moratti, presidente e amministratore delegato di Saras, 1,9 miliardi di dollari, al 1694 posto mondiale. Ma ecco la classifica dei proprietari di club più ricchi del nostro paese. Al dodicesimo posto troviamo Danilo Iervolino, un miliardo, al 2692 posto mondiale, salernitana. Undicesimo Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,1 miliardi ciascuno, al 2545 posto mondiale, sassuolo. Decimo Antonio Percassi, 1,6 miliardi, al 1945 posto mondiale, Atalanta. Nono Giovanni Arvedi, 1,8 miliardi, al 1764 posto mondiale, Cremonese. Ottavo Pier Silvio e Marina Berlusconi, 2,1 miliardi ciascuno, al 1545 posto mondiale, Monza. Settimo John Elkan, 2,6 miliardi, al 1286 posto mondiale, Juventus. Sesto Renzo Rosso, 3,7 miliardi, all'871 posto mondiale, Vicenza. Quinto Famiglia Saputo, 4,3 miliardi, al 734 posto mondiale, Bologna. Quarto Dan Friedkin, 6,4 miliardi, al 432 posto mondiale, Roma. Terzo Rocco Commisso, 8 miliardi, al 322 posto mondiale, Fiorentina. Secondo Michael Hartono, 23,1 miliardi, al 65 posto mondiale, Como. A guidare la classifica al primo posto troviamo Robert Hartono, 24,2 miliardi, al 61esimo posto mondiale, Como. Ma la lista di Forbes continua a cambiare, con nuovi nomi pronti a prendere il loro posto nel Pantheon dei miliardari dello sport. Grazie. Grazie.